Bella gente, ecco il Vassiaco Paschi che vi parla oggi in questo short. Finiremo un disegno che non vi spoilerò, però come potete vedere riguarda i segni zodiacali. Non vi dico quali però. Allora, siamo su Happy Color. Finiamo questo lavoro in questo modo. Cerco di spoilerare il meno possibile, infatti cerco di scorrere piano piano. Spero che il disegno vi sia piaciuto. Ovviamente vi piacerà, spero. Perché secondo me ho fatto una buona scelta sul cosa. E vabbè. Mi sa che l'avete capito tutti, no? Aspettate. Eccolo! Il leone. Questo è il segno zodiacale che ho scelto di disegnare. E adesso vedete pure in che ordine l'ho fatto. Sì, sono partito dal sotto, ho fatto le gambe, ho fatto il cielo, le rocce intorno, il sole e poi ho iniziato a fare una parte della chioma, i muscoli, i vestiti, poi ho finito la faccia e poi in questo short ho fatto l'asteroide. Partita pure la pubblicità, se è così, salvo. E va bene, raga. Spero che questo short vi sia piaciuto. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!